buona serata benvenuti nello spazio informazione di seila tv a voi le riassunto con le notizie più importanti della giornata aziende finte per ottenere permessi di soggiorno e naspi 11 arresti carona la monte poglietto annuncia impianti in vendita e chiusi a tempo indeterminato 850 bambini di 19 istituti vanno a scuola di cittadinanza con un consiglio comunale capitale della cultura anche i detenuti vanno in scena primo spettacolo di un teatro cittadino atalanta a cena per fare gruppo prima del tour de force scamacca e touré brillano come cantanti parliamo della operazione la guardia di finanza di bergamo e brescia scaturita dalla tendenza di clusone naspi e permessi di soggiorno illeciti 11 gli arresti sono partite dalla val seriana le indagini che hanno portato la guardia di finanza di bergamo in sinergia con quella di brescia all'arresto di 11 persone accusate di associazione per delinquere in relazione a condotte di truffa i danni dello stato permanenza illecita di cittadini stranieri nel territorio nazionale e all'indebita percezione di prestazioni erogate da enti previdenziali assistenziali per un totale di 240 mila euro di truffa gli arrestati tutti i residenti provincia di brescia sono di cittadinanza italiana tailandese albanese e senegalese ora si trovano i domiciliari con obbligo di dimora come custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di brescia le indagini sono scattate grazie all'operato preciso della guardia di finanza di clusone la quale stava indagando sul territorio per la percezione di contributi come naspi e fondo di integrazione salariale di cui sono sorti i primi sospetti su alcuni beneficiari che hanno portato poi al vertice del sistema composto appunto dagli 11 arrestati il sistema architettato da questi ultimi prevedeva l'istituzione di aziende inesistenti con l'obiettivo di percepire i fondi sociali ma anche di erogare contratti di assunzione per poter ottenere o prolungare illecitamente permessi di soggiorno 93 in tutti i beneficiari tutti extracomunitari per i quali ora scatteranno altri accertamenti con indagini più approfondite per rilevare eventuali altri reati e c'è l'allerta ma al tempo prima lungo periodo di siccità poi ora tanta tanta acqua dal cielo fiumi in piena e addirittura la neve le secche delle scorse settimane sono solo un ricordo a causa delle abbondanti e incessanti piogge delle ultime ore i livelli dei fiumi bergamaschi sono a tratti triplicati come successo per il serio e il brembo il serio ha rotto gli argini in più punti dalla val siriana alla bassa e quest'oggi si presentava con il classico colore della tempesta marrone schiumoso portatore di detriti e rami sradicati lungo il proprio corso anche a Deoglio stanno raggiungendo picchi a tratti preoccupanti che hanno tutta l'aria di un'allerta visto che le piogge abbondanti proseguiranno fino a questa notte in parte nella mattinata di domani intanto visto anche il crollo delle temperature e le prime nevicate a quote basse è stato chiuso il tratto della statale 470 tra il chilometro 61 e 72 nel territorio di Averare in provincia di a causa proprio delle precipitazioni nevose chiuso al traffico anche la strada agro silvopastorale dalla località Moretti fino al passo d'ordona nel comune di Foppolo ricordate tutti l'incendio di via moroni con una palazzina devastata possono rientrare ora solo 5 famiglie a 70 giorni dal disastroso rogo che ha bruciato una superficie di 300 metri quadrati i primi condomini hanno fatto ritorno negli appartamenti di via moroni l'incendio partito dalla loggio al civico 20 dove c'era un appartamento in ristrutturazione si era rapidamente propagato alle palazzine vicine 18 le abitazioni coinvolte 5 delle quali sono state dichiarate nuovamente abitabili proprio in queste ore per le 13 rimanenti la situazione è più complicata in 7 appartamenti la necessità di provvedere alla ricostruzione del tetto e dei camini ha spostato le lancette per il rientro nelle proprie abitazioni in avanti di parecchi mesi fino alla primavera gli ultimi 6 appartamenti invece sono andati interamente bruciati in più si aggiunge anche l'incognita dell'abitazione all'ultimo piano sotto sequestro con le indagini che potrebbero allungare ulteriormente le tempistiche un'altra questione riguarda le spese complessive che si calcolano in 460 mila euro per le sole parti condominali a cui vanno aggiunti i costi di ricostruzione degli appartamenti andati distrutti una situazione che genera tensione per gli sfollati circa una cinquantina che non possono ancora rientrare nelle proprie abitazioni e al momento sono ospitati gratuitamente dal comune in un ostello del centro di solito l'arrivo della neve in tempo invernale fa bene al turismo non è il caso della valbrembana c'è l'ennesimo colpo di scena più o meno di carona che vende tutto e sicuramente non aprirà per questa stagione altra brutta notizia per gli sciatori bergamaschi dalle parti di foppo le carona la situazione impianti di risalita non migliora anzi con un comunicato diramato oggi la monte poglietto srl ha annunciato che la stazione di carona val carisole è in vendita e che gli impianti di risalita restano chiusi a tempo indeterminato due lotti di vendita come viene scritto in un comunicato nel quale si allude alle tante vicissitudini passate nella questione foppo lo carona e gestione degli impianti il primo lotto di vendita spiega il comunicato comprende le seggiovie carisola valgussere carisole con canevosa con relativi impianti di innevamento ed impianti di innevamento delle seggiovie quarta baita e montebello mentre il secondo lotto consiste in un terreno edificabile e la seggiovia carona alpe soliva si specifica che non è in vendita il tappeto bimbi mentre la seggiovia fa polo centro piazza all'alberghi è già stata ceduta si legge ad altra controparte dopo essere stata offerta ad un prezzo poco più che simbolico senza esito nonostante adunanze pubbliche alla comunità dei foppolesi che la reclamavano a gran voce l'eventuale acquirente spiega il comunicato nella irrinunciabile prospettiva della gestione unica del comprensorio sarà tenuto a subentrare alla nostra società in tutti i contenziosi che restano in essere con i comuni di foppolo e carona e con i proprietari di altri terreni sarà inoltre tenuto a subentrare alla nostra proposta di acquisto delle seggiovie quarta baita e montebello fatta al comune di foppolo per un milione di euro la neve arriva la voglia di sciare monta ma da queste parti sembra proprio che non ci si potrà divertire e la crisi generale la crisi data dall'inflazione non ferma gli operatori del terziario che comunque vanno avanti migliora la situazione nel terziario bergamasco turismo commercio e servizi continuano a dover affrontare diverse ombre come l'inflazione il ritardo nei pagamenti e l'innalzamento di prezzi e bollette ma la fiducia nonostante tutto supera addirittura quella relativa al pre covid a dirlo è l'osservatorio congiunturale ascom conf commercio bergamo che fissa 51 il parametro di fiducia delle imprese ad ottobre 2023 contro il 49 8 dell'ottobre 2019 poco prima che il mondo cambiasse anche i ricavi sorridono e l'occupazione tiene scongiurando quel fenomeno della mancanza di personale che nel 2022 aveva raggiunto il suo picco bene anche il saldo aperture chiusure che in tutti e tre i settori sono calate particolarmente nel commercio relativamente al primo semestre 2023 in totale il settore nella bergamasca conta poco meno di 44 mila imprese poco meno della metà attive nei servizi poi commercio e turismo dove però si è registrato comunque una piccola crescita di attività insomma chiari e scuri ma con i tempi che sono passati solo pochi anni fa gli imprenditori si leccano i baffi e guardano col sorriso al domani parliamo una bella storia quella dell'accademia dello sport per la solidarietà tanti anni 46 di successi tanti i soldi donati per la beneficenza per chi ne ha bisogno ora è il momento di dare una mano di servono rinforzi per il volontariato anno 1976 inizia l'avventura del tennis giocato dai vip campo di gioco l'allio l'idea quella di far giocare persone dello spettacolo della televisione dello sport insieme alla sede che si sposta a cividino il cambio di passo arriva nel 2004 non solo apparenza non solo i famosi ma centinaia di giocatori che con la loro passione tennistica integrata poi dal golf hanno contribuito a raccogliere fino ad oggi una somma considerevole per la solidarietà siamo arrivati con quest'anno arrivare circa 2 milioni 800 mila euro di solidarietà concessa sul territorio nostro importante è stata nel 2020 la lotta al covid senza chiedere nulla ci sono stati donati un milione 200 mila euro e continueremo a fare la solidarietà tramite lo sport anche quest'anno un successo che si è svolto nella nuova struttura di via gleno un impianto realizzato grazie alla caparbietà dell'accademia e con il contributo sostanziale di regione lombardia ora gestito dal csi ancora una volta obiettivi centrati come si legge sul sito ufficiale si dona quello che sia nel cuore e la beneficenza è un bene che ritorna gli eventi sportivi del 2023 golf e tennis hanno avuto un introito al netto circa 90 mila euro con il quale abbiamo dato un contributo enorme per una nuova nuova ambulanza per la croce buio del basso sabino l'acquisto di un mezzo di trasporto per l'amnice per gli invali civili e un mezzo di trasporto per i ragazzi del down ipd bergamo questo è stato il frutto concreto del lavoro fatto dai volontari importante aiuto dei nostri sponsor e l'aiuto e la avvicinanza di certe istituzioni giovanni licini il capitano indiscusso di una nave che ha nell'equipaggio il punto forte della sua storia decine e decine di volontari che lavorano per mesi un evento di questo tipo con burocrazia e regole che sono diventate sempre più stringenti richiede che un minuto dopo il termine della manifestazione ci si rimetta immediatamente al lavoro per la successiva nelle ultime edizioni il campanello d'allarme i volontari diminuiscono ed il lavoro aumenta nessuna polemica non è nello spirito dell'accademia ma si devono fare i conti in tutti i sensi e se qualcuno vuol farsi avanti è il benvenuto anni fa la gente andava in persone a 55 60 anni oggi va in persone quasi a 70 anni e non c'è più questa forza vitale che è l'aiuto di determinate persone che dedicano tanto spazio al volontariato più che alla famiglia l'accademia comunque la sua parte la farà ancora per un po di anni saremo vicini più fragili e a chi ha bisogno di noi magari in forma diversa e 850 bambini alunni sono diventati improvvisamente assessori e consiglieri comunali a scuola di cittadinanza cosa fa il sindaco come funziona il consiglio comunale che cos'è un'interpellanza per rispondere a queste e tante altre domande sulle istituzioni cittadine c'è il progetto a scuola di cittadinanza rivolto alle classi quinte della primaria un percorso di educazione civica per promuovere la conoscenza della partecipazione democratica che quest'anno coinvolge 848 alunni di 19 istituti cittadini alcune studentesse alcuni studenti del liceo linguistico giovanni falcone accompagneranno le classi in visite guidate per conoscere palazzo frizzoni poi i ragazzi accolti nell'aula consigliare simuleranno una seduta di consiglio comunale per prepararli alla prossima primavera quando i rappresentanti di ciascuna classe discuteranno un vero ordine del giorno alla presenza di sindaco e giunta i ragazzi le ragazze diventano i protagonisti perché fanno delle proposte delle proteste e esprimono quello che loro vorrebbero venisse realizzato nel loro quartiere nel loro parco nella loro scuola alcune delle loro segnalazioni quelle diciamo possibili sono state raccolte e i vari assessori poi le hanno tradotte in atti concreti nonostante l'età piccola che sono ragazze e ragazze che hanno dieci anni c'è una consapevolezza su come si vive la città e come si può essere responsabile come si può collaborare per una cittadinanza attiva educazione civica significa anche imparare a prendersi cura del patrimonio pubblico e farsi parte attiva della risoluzione dei problemi per questo il comune ha attivato il servizio segnala bambino che consente ai più piccoli di indicare all'amministrazione tramite il sito di servizi e richieste di manutenzioni se un bambino va in un parco si accorge che il gioco è rotto può attraverso segnala bambino segnalare questo gioco rotto e gli uffici possono intervenire a ripararlo è molto importante che i cittadini aiutino l'amministrazione ad essere presente sul territorio essere i nostri occhi e a segnalarci le cose che non vanno il presidio per la pace organizzato dalla rete bergamasca pace e disarmo è stato spostato a domani venerdì 3 novembre a causa delle avverse condizioni meteo che avrebbero impedito una buona riuscita della manifestazione in programma questo pomeriggio alle 18 in piazza matteotti a bergamo non cambia l'orario e la location lo spunto naturalmente arriva in seguito a quanto sta succedendo tra israele e palestina la rete ha scritto la nostra condanna contro ogni forma di violenza di aggressione e di rappresaglia contro la popolazione civile sia palestinese sia israeliana è assoluta ora ci fermiamo per qualche consiglio pubblicitario ci ritroveremo con altre notizie ben ritrovati con le notizie di seila tv news appuntatevi 25 novembre in nell'auditorio di piazza della libertà vanno in scena i detenuti del carcere di bergamo per la prima volta lo spettacolo dei detenuti della casa circondariale di bergamo esce dal carcere ed entra in un teatro cittadino sabato 25 novembre all'auditorium di piazza della libertà andrà in scena lo spaventapasseri uno spettacolo interpretato da 11 attori detenuti che alternano parti del capolavoro di beckett aspettando godò con pezzi autobiografici e ciascuno di loro molte volte ha scelto dei pezzi del proprio vissuto personale anche da genitore piuttosto che da figlio in cui ha visto che il carcere ha determinato una rottura rispetto alla vita precedente l'ha voluta portare in scena lo spettacolo già presentato a 1200 studenti delle scuole superiori all'interno del carcere nell'ambito di un progetto di educazione alla legalità ha l'obiettivo di creare un ponte tra il dentro dei detenuti e il fuori degli spettatori per ricordare che cultura e bellezza possono esistere ovunque anche dentro le mura di un carcere il teatro aiuta tantissimo a esprimere i propri sentimenti e quindi è una delle modalità che adottiamo all'interno dell'istituto per aiutare le persone ristrette ad abbandonare il percorso di devianza bisogna lavorare assieme ad altre persone bisogna costituire dei team bisogna rispettare degli orari di lavoro quindi anche in questo modo il teatro aiuta a includere socialmente la persona e ora l'atalanta che è andata a cena in una pizzeria ristorante bergamasco famosissimo per fare gruppo hanno cantato ballato si sono divertiti ecco vi abbiamo risparmiato le note canore dei nostri beniamini nerazzurri alla faccia delle voci maligne su una gestione militaresca dello spogliatoio da parte di giampiero gasperini ieri sera i calciatori e soli i calciatori dell'atalanta hanno sfruttato il giorno di festa per uscire a cena insieme come nelle migliori compagnie del calcio dilettantistico luogo di ritrovo il ristorante le stagioni di orio al serio location non indifferente ma tutto sommato casalinga per un gruppo che ha spontaneamente deciso di cementificarsi attorno alla tavola un segnale bello bellissimo confortante che dà la cifra di quanta zingonia lo spogliatoio sia compatto non è stata almeno non ci sono segnali una cena per far quadrato per chiarire qualcosa visto che di tensioni interne fino a qui non ne sono emerse nemmeno mugugni uscendo dal campo e allora tutto bene in vista del prossimo tour de force che vede l'inter sabato lo storm grazie giovedì e l'udinese domenica prima della sosta la musica ha unito come sempre la squadra con quel rito di iniziazione ormai consolidato mettere sul palco i nuovi acquisti per misurare le loro doti canore de catelar è apparso molto meno timido che in campo ma interpretando umbrella di rihanna il suo animo fiammingo ha steccato molto meglio con i piedi ecco bene benissimo invece elby l'alture che tifosi non hanno ancora apprezzato col pallone tra i piedi ma lo hanno fatto con le sue interpretazioni musicale dai ritmi certo caraibici e afroamericani a suaggio al microfono così come in area di rigore gian lucas camacca che con la società dei magnaccioni gioca in casa sfoderando le sue origini romane e confermando il suo stato di grazia anche fuori dal campo e poi altre foto divertenti gym city gladiatore lucio muri il super mario ma anche toloi lugeri ed ederson che ribattezzano la selesao mettendo in luce lo spirito brasiliano dell'atalanta insomma sorrisi risate aria leggera i risultati spesso poi vengono da sé e a sanremo stiano pure tranquilli sarà simone sozza di sereno a dirigere atalanta inter l'undicesima giornata di serie a in programma sabato 4 novembre al 18 al gay will stadium di bergamo al var massimiliano irrati e lorenzo maggione di lecco quattro i precedenti tra l'atalanta e l'abitro sozza bilancio favorevole tre vittorie e un pareggio non riesce invece l'impresa alle ragazze della volley bergamo che al palafacchetti di treviglio vengono sconfitte per 3 a 1 da vero volley bilano di paola e gonù 23 25 22 25 25 25 20 18 25 i parziali dei sette giocati comunque fino all'ultimo punto dalle bergamasche resta l'immagine del palazzetto pieno zeppo con 3000 spettatori che hanno infiammato l'atmosfera per tutta la durata del match è molto atteso questo momento quello del tempo il tempo che sta facendo veramente le bizze vediamo con trebi meteo un saluto e ben ritrovati da sofia inglese di trebi meteo nella giornata di venerdì la perturbazione scenderà gradualmente verso le regioni meridionali portando a tempo instabile al centro sud vediamo nel dettaglio la lombardia nel corso della giornata di venerdì residua instabilità in particolar modo sulle sui rilievi alpini e sulle prealpi altrove si faranno strada ampie schiarite con temperature riprese e punte anche di 16 17 gradi nel corso della giornata di venerdì sulla provincia di bergamo residua instabilità in particolar modo sui rilievi altrove si faranno strada ampi spazi soleggiati e temperature massime che si aggireranno intorno ai 15 16 gradi ma nella giornata di sabato sopra aggiungerà una nuova perturbazione che porterà a tempo a tratti instabile con conseguente calo termico massimi infatti intorno ai 12 gradi uno sguardo ora la tendenza dei prossimi giorni tempo ancora instabile nel corso della giornata di domenica un avvio della settimana invece in prevalenza a soleggiato e temperature in lieve ripresa maggiori dettagli vi attendono come sempre sull'app di trebi meteo le vostre segnalazioni a redazione chiocciola sei la tv punto tv è veramente tutto buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti